... Chi è? Ah, sei tu. Telefono! Salmetta! Ma quante volte ti ho detto che non mi devi svegliare così di soprassalto? E non mostrare i denti a tuo padre, chiaro? Chi è? Tuo figlio. Ad Alberto! Cucciolo di papà! Eh, sapessi quanto mi manchi! Quanto ci manchi! Ascolta, ho un problema. Vabbè, dillo a tuo papà che si risolve il problema. Mi sono fidanzato. Ma meraviglioso! Con un'umana? Papà, ci sei? Tua madre non sarà assolutamente contenta che tu ti sei fidanzato con un'umana! È per questo che ho chiamato te. Stasera vengo a cena con lei. Ah, vieni qui con lei? Sì, e non dovremmo farci... riconoscere. Capito? La prepari tu, mamma? La preparo io, mamma? Dici? Eh. Va bene? Grazie. Lo sapevo che potevo contare su di te. Tranquillo, ci penso io. A stasera. Ciao, ciao. E adesso chi glielo dice alla mamma? Salmetta! Mh? Tesoro, faresti un piccolo favore al tuo papà? Ma certo, papà. Glielo dico io a mamma. Grazie a tutti.